Un nuovo sopralluogo questa mattina nella zona del Palazzetto dello Sport di Via Roma. La polizia, insieme al personale dei Vigili del Fuoco, ai tecnici del Comune, al Sindaco Giuseppe Alfano, si sono recati nella struttura, distrutta dal violento incendio divampato ieri pomeriggio, o meglio, in ciò che ne resta. Le risultanze del sopralluogo non sono ancora note. Difficile avere certezza sulle modalità esatte dell'accaduto, ma alcune cose sono sicure. Le fiamme sono divampate all'interno del palazzetto, forse dalla copertura, forse dalle masserizie che si trovavano all'interno, che erano state ammonticchiate nel tempo dai vandali che si erano introdotti nella struttura, forse da qualche extracomunitario che ne aveva fatto un alloggio temporaneo. Chi ha agito, dunque, aveva molte possibilità per appiccare il fuoco, e lo ha fatto riuscendo a centrare il suo obiettivo, la distruzione di una struttura sportiva che non era mai stata completata, ma per la quale, da qui a qualche giorno, sarebbe stato presentato alla Regione il progetto definitivo per il secondo straccio, redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune. L'amministrazione, comunque, vuole andare avanti. Il Sindaco appare deciso a seguire questa strada per cercare di ottenere un nuovo finanziamento. Ma bisognerà anche verificare se il rifacimento del tetto in legno, distrutto per la seconda volta in otto anni da un incendio, sia l'ipotesi più giusta, o se, per evitare rischi, bisogna pensare a qualcosa di diverso. Anche il Partito Democratico chiede che si faccia in fretta. Il Vice Coordinatore cittadino, Gaetano Gaglio, chiede un impegno per la ricostruzione che passi attraverso un impegno congiunto di tutte le forze politiche cittadine per trovare impegni e progetti per l'accesso alle risorse finanziarie. E chiede che si evitino le inutili polemiche e gli scambi di accuse. Intanto, l'inchiesta della Polizia va avanti. L'ipotesi è quella dell'incendio doloso. Se sarà accertato, il Comune potrebbe costituirsi parte civile. Qualora dovesse essere accertato che l'incendio è di natura dolosa, ripeto, questo pare sia l'ipotesi più probabile, noi ci costituiremo parte civile.